Victoria e Lily sono state trovate in pessime condizioni. I loro genitori sono morti. Sono rimaste da sole nella foresta per almeno cinque anni. Ciao, Victoria. Come siano sopravvissute, è inspiegabile. Sono il fratello del tuo papà. Ti ricordi, zio Luke? In un ambiente familiare e amorevole, Victoria e Lily ritornerebbero a una vita normale. Ne sei sicura? No. Ciao. Mamma. Sono Annabelle. Chiamatemi così o come volete. Mamma. Queste bambine non sono ancora pronte. E ho capito che neanche io sono pronta a questo. Che fanno di strano? Parlano con le pareti. E che cosa dicono? Mamma. Le cose miglioreranno. Promesso. Ti piace? Vorrei che mi parlassi della mamma. No. Che cos'hai? Non voglio che tu ti faccia male. Non mi succederà niente di brutto. Non lo puoi fare. Qualcuno farà loro visita. Victoria, che c'è sotto il letto? Un fantasma è una presenza che crea turbamento, condannata a disturbare l'anima sempre. Giorno dopo giorno. Dov'è adesso? È qui. In questa casa. Mamma, smettila! L'avevi promesso! Chi è mamma Victoria? Mamma.